Unire i territori, condividere le esperienze di governo e i progetti di sviluppo per contare di più in Europa e in Italia. E questo è l'obiettivo della Macro Regione Adriatico Ionica, un progetto in cantiere da tempo e del quale si è discusso ieri in un convegno organizzato dalle regioni Marche, Abruzzo e Lombardia, ad Ancona, in occasione del forum Il Vento di Adriano, le comunità adriatiche a confronto. Per sviluppare le potenzialità della regione Abruzzo, secondo il governatore D'Alfonso, anche nell'ottica dell'Expo 2015 di Milano, non si può prescindere dal confronto e dalla condivisione con gli altri territori della Macro Regione. Su tutto questo fronte noi abbiamo la strategia della Macro Regione Adriatico Ionica che concepisce quattro importanti pilastri. Il pilastro del mare blu, che dobbiamo tutelare e difendere anche dalle piattaforme petrolifere. Del turismo sostenibile, della connettività e dell'ambiente. Questi quattro pilastri, che sono quattro importanti obiettivi, noi li possiamo centrare se procediamo insieme. Nell'approvvigionamento energetico, nell'approvvigionamento infrastrutturale e anche nella tutela di ciò che il creatore ci ha consentito. A gennaio del 2015 il Consiglio Europeo approva le misure operative per le quali i nostri progetti dovranno essere pronti e capaci di coinvolgere anche tutta la società di mezzo e la società dell'impresa e la società anche della libera attività economica. Abbiamo circa il 40% del nostro territorio che è vincolato e destinato al bene bello del parco e dei parchi. Abbiamo una qualità della vita che può essere messa a disposizione anche di uno spazio più grande. Su questo fronte però dobbiamo essere capaci anche di cogliere l'opportunità di Expo 2015 dove si pone il tema non solo della potenza della tecnica ma anche il tema del limite. Per la prima volta una esposizione universale ha concluso con lo stile del Novecento e ha aperto un nuovo stile perché riflettendo sui limiti si trova la giusta via per affrontare le sfide del futuro. L'Abruzzo con ciò che ha e ciò che è può contribuire anche ad una Europa migliore.